Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati, oggi è il 12 di giugno e come di consueto trasmetto la videoanalisi di Investire.biz l'unico social network dedicato agli investimenti. Come potete vedere cliccando qui potrete registrarvi al sito e scrivere i vostri articoli come questo per esempio di Stefano, Ratio Gold Silver, Slalom Gigante, Spread, Dollar, Valute Scandinavia quindi insomma veramente un'opportunità per poter scambiare idee sul mercato con altri utenti della community ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i dati macroeconomici che potranno influenzare i mercati finanziari durante la giornata di oggi senza dubbio i due market mover della giornata odierna saranno, andiamo a prendere il calendario macroeconomico giornata di venerdì, i due market mover principali saranno pubblicati nel pomeriggio saranno l'indice dei prezzi di produzione quindi un dato importante perché fa vedere come e se le aziende hanno dei costi in aumento insomma per quanto riguarda la produzione di beni e servizi e soprattutto il dato appunto sulla fiducia del Michigan la fiducia dei consumatori quindi i due dati che usciranno alle 14.30 e alle 16 che potranno influenzare un pochettino l'andamento di euro dollaro che come sapete negli ultimi giorni ha avuto un ribasso è tornato fino ad area 1.12 più o meno e quindi da qui potrà eventualmente rompere il livello di 1.12 oppure ripartire al rialzo il grafico sembra piuttosto chiaro vedete la cosa interessante è che vediamo sul grafico del euro dollaro questo è un grafico orario come la media mobile stia sostenendo in qualche modo i prezzi e per chi fa un'operatività di scalping o un'operatività intraday molto veloce secondo me questi sono ottimi livelli d'acquisto per riuscire a portare a casa magari quella quarantina cinquantina di pipa all'interno dell'intraday poi ovviamente quando ci saranno e dovessero esserci dei dati estremamente positivi da parte degli Stati Uniti da parte appunto della diciamo se i dati saranno estremamente positivi probabilmente potremmo vedere un'inversione di tendenza che potrebbe riportare nuovamente i prezzi fino ad area 1.11 1.10 50 quindi insomma molto interessante è da monitorare oggi io sarei per il long su euro dollaro durante la mattinata poi dopo l'uscita dei dati macroeconomici qualora dovessero essere positivi chiuderei la posizione per poter andare nuovamente short ma in realtà il trade che ci piace di più è quello che tra l'altro abbiamo dato ai clienti con l'SMS questa mattina infatti è stato inviato un'SMS ai clienti dove abbiamo mostrato dove abbiamo indicato l'operazione che abbiamo fatto noi che è questo short su Italy 40 questo è l'indice italiano l'abbiamo visto nella giornata di ieri l'abbiamo approfondito durante il trading live abbiamo visto quest'ombra piuttosto pronunciata nel pomeriggio di ieri che ha portato l'indice a chiudere in maniera non particolarmente esaltante questa mattina abbiamo visto un'apertura con una candela rossa quindi comunque che non ha dato modo di pensare a una particolare forza dell'indice italiano ebbene qui siamo convinti che il movimento naturale di questa figura potrà essere un potrà essere un ritorno in area 22.500 con rottura possibile di questo livello che potrebbe portare i prezzi ancora più in basso quindi sicuramente il trade che abbiamo dato uno short con uno stop veramente prossimo in quest'area qui con un target piuttosto importante ovviamente per chi fosse interessato a ricevere i segnali operativi è molto semplice basta mandare una mail a info chiocciola investire.biz o cliccare sui tasti sulle schede che vedete in sovraimpressione nel video in ogni caso appunto vi ricordo che oltre a questo abbiamo in programma una serie di webinar come ad esempio i vari trading live e soprattutto il corso di fine mese che vi esorto a non perdere e guadagnare con le stagionalità la stagionalità è quello che abbiamo visto durante il corso vivere di trading che è stato un successone negli ultimi weekend a chiasso insomma vi esorto a partecipare dal momento che abbiamo già diversi iscritti e come sapete i posti sono limitati con questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un ottimo trading ah un'ultima cosa questo non l'avevo detto a breve pubblicherò un articolo su il sito investire.biz quindi lo troverete quando vedrete questo breve video con la possibilità di richiedere la registrazione del webinar di ieri che è stato il trading live che è stato veramente molto 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 interessante quindi per i clienti è disponibile la registrazione del trading live buona giornata e buon trading a tutti